Mi piace costruire questa piazza, questa società, questo Presidente con una capacità che abbiamo nel nostro direttore sportivo e con il suo staff, abbiamo tutte le permesse di poter dare continuità a questa crescita senza esagerare. Esagerare nel senso di la stabilità, non possiamo correre quando dobbiamo camminare e non possiamo camminare quando possiamo correre. Per questo dobbiamo aggiustare bene i momenti e dopo aspettando che il mercato ci possa aiutare in tutti i sensi di forma a poter essere più competitivo. La mentalità c'è, io credo che l'idea è chiara. Abbiamo un leader, che è il Presidente, che è ambizioso, che ha un'idea anche chiara. Tutto il suo tragetto nel passato dimostra la sua propria forza, ci ha trasmesso anche, trasmette ogni volta che c'è, però dobbiamo fare sempre le cose equilibrate.